un incontro rivelato oddio un incontro rivelatore oddio hai sbloccato? materassi di emergenza di emergenza ti permettono di abbandonare a un livello con un salto? wow questo si che è utile nuove super costruzioni di heliporti ok bug di nuovo perchè non ho il gamepad in mano ah vabbè mi sta aggiungendo heliporti in tutto il mondo sul gamepad si sta muovendo la mappa in modo strano e mi diceva guarda qui c'è l'heliporto ok già che ci sono compriamo un aereo cioè un elicottero e facciamolo perchè l'arancione non c'è arancione wow questo è molto arancione ok mi dispiace che non vada volte in alto va così al massimo io vorrei andare fino in cima e invece no dove devo andare laggiù ok devo riuscire a fare tutto ciò in meno di mezz'ora speriamo bene scusate un attimo ah infatti mi vuol far usare quello ok proviamo il Jabberlowl eh cosa il Jabberlowl non conosci il Jabberlowl ho sbagliato mio Dio qua per curvare ci vogliono 30 anni ok allora rallentiamo già tatan 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 non scolettare è più forte di te lo so no è semplicemente fantastico eh ma questo ce l'ho io come faccio io ho fatto la cretinata della storia sì quella macchina è mia mi piace operazione di polizia ok retro front e via si ricomincia a guidare ok ho 29 minuti che poi in realtà saranno di meno quindi sbrigati incontro rivelatore mio Dio no veramente sbrigati è importante quello che sta per succedere se è rivelatore è importante devo fare tutta quella strada eh no ok sto cercando di tagliare un po' bene vigilante da strapazzo bene ho tagliato un po' di strada di strada ci siamo quasi dai manca poco dai che manca poco sì lo so l'ho detto tre volte che manca poco hai sbagliato le titolazioni cosa no non credo che abbia detto sbagliato le titolazioni dai ci siamo ci siamo è qua dietro è qua dietro sì lo vedo wow mi spiace ehi la vini mi ha detto che sei diventato il suo braccio destro tranquillo non sono geloso sai se è qui ha detto qualcosa su un incontro con un acquidente è privato sì a dirti la verità sono un po' preoccupato prima di finire al fresco il tipo con cui deve vedersi era il re del crimine di questa città ora è a piede libero e spero che non voglia togliere vini dalla circolazione vuoi che mi assicuri che stia bene? vini mi ripuderebbe se scoprisse che ho mandato qualcuno a fargli da balia giusto quindi non deve saperlo tutto quello che so è che dovevano incontrarsi dalle parti di Paradise Sands sali su un luogo elevato e con un po' di fortuna li vedrai bene grazie mo no grazie a te era bellissimo perché lui stava bevendo la pozione e gli usciva dalle orecchie il fumo mentre parlava quanto è bello faresti discorsi con le animazioni bufe allora scommetto 12 mila e mezzo di dollari che sta per incontrarsi con il signor Blackwell perché è poco rivelatorio se si stesse incontrando con Rex Fury no? vai wow questo è l'hotel dei genitori di Frank saranno ricchissimi devo raggiungere il tetto ah sta parte Frank ma quello era Frank no torno fra 5 minuti non ce li ho 5 minuti dovrò arrangermi alla vecchia maniera questo palazzo questo palazzo l'avevo scalato in parte durante lo speciale esplorazioni già ok quindi dimmi che ho già il colore giusto certo certo ok ladro metamorfosi l'uscita ok ok Basta musica era quella di Injustice. E lei se non è iscritto alla palestra non può entrare qui dentro. Io sono iscritto alla palestra. Sì, come no? E lui è Hulk. Scommetto che non sa nemmeno usare gli attrezzi. Lui è Hulk, lui è Hulk. Questi? Attrezzi? Ma come l'ora su cinque, non ho tempo da perdere. Sti scherzi? Basta, veramente, no, mi son perso. È da secoli che non faccio commentary e quindi sono, come dire, poco abituato a trovare qualche argomento per trovare, mettere, corre, corre, un po' sentito. Oddio, stavo gridando quasi come la madre di Lex Luthor nei miei sketch per lo speciale 500 iscritti. Di Dio! Ok, mi ha convinto, lei è iscritto alla palestra. Anche se non l'ho mai vista e non mi ha mostrato nessun documento d'identità. Sì. Grazie, Hulk. Oddio, stava ridendo in un modo. Ma basta! Perché dovrei fare anche questo? Sono scemo, pazzo, manicota, corre, Udividete! Stava ridendo così. Porca miseria. Stava veramente ridendo così. Voglio il mio padre! Ancora queste frasi dubbie. Ehm. Voglio la dinamite. Già, questo è più serio. Io sono uno Con il piccone e la barba E non sono Gini Allora, dove devo andare? Ma basta ballare Quei picconi che escono dalle porte dell'ascensore Frank, ecco Frank Mio Dio, sarà un dialogo terribile Quindi lo colorerò di verde No Ma c'è un cavallo lì con lui Che scemo che sono Ok, adesso esco e poi divento il ladro Frank Ehi là, Chase Sei alloggiato qui all'hotel No, sto cercando Vinnie Popalardo e Rex Fury Beh, posso controllare il registro Non sono... Non importa Hai notato nulla di sospetto da queste parti? No A parte quell'elicottero dall'aria sinistra Che ci ha sorvolato qualche minuto fa E poi è atterrato sul palazzo di fronte all'hotel Herbert L'hotel Herbert? È lì che devo andare Ehi, cosa c'è che non va nell'hotel dei miei genitori? È per via di quel cliente che ha mangiato il cioccolatino sul cuscino E si è scoperto che era uno scarafaggio Scommento che quel cliente eri tu, Frank Che purtroppo non riesco a colorare Bene Certo che ci vediamo Io devo fare il mio parapollio Sì Sì No Perché devo atterrare lì? Fammi già atterrare sul tetto Per attivare il parapollio Fai questo Sì Galide Laggiù, a destra C'è Luna Park Oh yeah Il grandioso Luna Park Oh Bravo il mio pollo A terra Con calma Ok C'è lì ho fatta Ah Ho 18 minuti Mio Dio No Un incarico speciale Non ce la faccio a farlo Quindi Quindi devo sbrigarmi Chase Chase Sbrigati Non posso Chiudere il video in un momento così rivelatorio Ma certo Io sono quello scemo No Quello della storia Che diventa scemo Oddio Non riesco a fare niente Allora Tu Verde E poi ti rompi Ju box E ne avevo già costruito uno Oh là Cos'è? Una bomba? No Cos'è? Un pezzo rosso Ah Cosa? Mio Dio Non me lo dire Ma questa distrugge? Sì distrugge Ok Usiamo la sua pistola No Ma non fatemi perdere tempo In tappare cosi 96 No Chi è che mi tappa? Scusate Eee Dove sei? Non lo riconosco No Il polizioso Devo cambiarlo Perché non lo riconosco mai No È già finito Ma dai Non pensavo che avresti trovato questo Olè Slalom Muffa No Vai E adesso Lì esplode Pah Ok Speravo Qualcosa Veramente Pi' esplosivo Wow 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 Oddio Come è fatto a uscire tutta quella roba da dentro un condizionatore Forse era stato condizionato da me Oddio sto cominciando a fare certe battute come in questo gioco Freddure così a caso Tipo Sto girando a mille Mentre rotolava su un tubo Ok Io sto bene Non ci credo Tu sei quello che mi ha fregato la macchina e rovinato la festa Oh accidenti Quello verde Caderà giù No c'è un vetro Tu Sei brutto Tu Tu sei bruttissimo Ok Gradioso Ora devo andare qua No Non dovevo andare lì in realtà Vai Scoreretto Mostra Tutte le tue abilità No Mi serve lui In che senso mi serve lui? Io ho paura Non capisco Ah 14 minuti Mio dio no Ah c'è un filo Ma madre mia Ho sudato 13 camicie E' una cosa Veramente Mi è quasi arrivato Venuto un ictus Mamma mia Mi sono Ah Veramente Mi è venuto un attacco di cuore Ok Chase Chase Non mi sono ancora ripreso Il mio corpo è ancora instabile Oddio mio Su Royal Lou No in realtà volevo il verde Ma per salire qua mi tocca il Lou Va bene Veloce Pompiero Sì Stanto faccio Shining Smettila con sto storio di Shining Ok Allora Se cado adesso Vi saluto Letteralmente Chiudo il canale No Quello no Tu sei bellissimo ed enorme Infatti mi stavano dando un po' troppi Cosi Certo Piscina paradisiaca Come no Devo farlo Speriamo qualcosa di meglio Ho bloccato Il Dune Buggy Dune Buggy Ok Ah Deve nempirlo d'acqua Sì ma magari da sopra Ah Pensavo ci mettessi molto di più A riempire La vasca No 11 minuti Oddio E Quella palla è sospetta Wow No 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 davvero Ma che cosa stupida Sto diventando davvero bravo a usare quelle catapulte Sono tipo sciolto Il salto Stupendo Una cosa assurda Ok Io ti Allora Va bene Facciamolo Ho dieci minuti Facciamolo comunque 2 su 20 Va bene Grazie E meno male che l'ho fatto Qua cos'è che ci bisogna rifare Ok Andiamo Oh fretta Ok 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 Cos'è tutta sta roba no è tutto inutile è stato cosa? ok va bene dai il tempo sfuggit e tempo non rimane devo telecomandare una macchinina ok come va? ok non in prima persona cioè normalmente è analogico e basta oddio ma è anche a tempo hello ah otto minuti andiamo soldi troppi mamma mia ne ho un milione seicentottantamila trecentocinquanta mamma mia ne ho parecchi allora dai dai ho veramente pochissimo tempo eeeh tutta sta roba per cambiare un colore questo è davvero triste un'altra catapulta randiosa cosa assurda no ma cosa e se cadessi adesso? devo raggiungere il retro del tetto a prevedere dove è sceso l'ericottero io li ammazzo cioè veramente mi danno persino il rischio di cadere ora li ammazzo ok andiamo ad aprire sto coso una chiave io li odio ok poi da quando in quale le porte si aprono girando le chiavi non dentro la serratura della porta ma fuori questi sono i lego signori ho sei minuti quello è Rex allora Vini lavora per lui no non riuscirò mai a scendere laggiù cosa si stanno dicendo? secondo te batteria resisti dai un altro lavoro ma avevamo un accordo ho fatto rubare a Chan tutti quei veicoli ti ho procurato il T-Rex e lo smeraldo peperone e quella barca poi ha idea della fatica che ha dovuto fare il mio uomo per rubarla la mia lista della spesa è ancora molto lunga Vini e tu mi accontenterai ma se non mi hai nemmeno pagato le altre cose io ho un sacco di spese sai e quei quadri che mi hai dato non valgono niente che vuoi dire? sono dei mattone originali ah si? a me sembrano degli scarabocchi beh trovami quella roba e basta Vini o dovrò sostituirti copano Rex Fiori mi fa saltare i nervi noi sbreghiamo tutto il lavoro e corriamo un sacco di rischi e lui ci tratta come scimmie dandoci delle noccioline? Chase? che cosa hai sentito? niente beh a parte che hai menzionato Rex Fiori ah tanto ormai che importa si è lui l'acquirente privato per cui lavoro e ne ho davvero abbastanza di lui nessuno può trattare un pappalardo in questo modo e passarla liscia faremo un lavoro solo per noi che cosa hai in mente? il pesce più grosso di tutta Lego City il tonno gigante esposto al museo non quel tipo di pesce intendo Forrest Blackwell magnate dell'edilizia e re indiscusso della città Forrest Blackwell dirò a Moe di prendere la barca dei pompieri e di raggiungerti datti una mossa ok Vini non posso mandare all'aria la mia copertura prima devo arrestare Rex mi ha salvato vero? un'extra bene ok salviamo con l'extra e io devo chiudere qua mi dispiace suonare una puzzetta cosa? bene vi saluto è stato un piacere mio dio vorrei tanto andare avanti ma non posso perché la mia telecamera sta per morire e quindi non ci sarebbe più un audio per voi ho sbagliato di nuovo questo codice anti-idiota io l'ho sbagliato ben due volte ok alieno tu si che sei mio bene resto questo ci vediamo nel prossimo video oppure il video continuerà fra poco lo saprete solo voi come al solito anche se ultimamente riesco a staccare il video quando dico addio ma stavolta mi sa di no cioè spero di no per voi perché sennò dovreste aspettare chissà quanto si lo so bene ora che ha salvato esco del tutto grazie ancora per avermi visto e buona macchina buona macchina Ehi!